Tutto ebbe inizio nella valle dell'antico glanio Ove dalla catena montuosa di Partenio Molto spesso è nevata Che originano numerose sorgenti d'acqua Tra cui la più importante viene chiamata con il nome Bocca dell'acqua Oggi captate e destinate al fabbrisogno idrico Che hanno dato origine? Al gigante che porta prosperità O meglio al clanio La presenza di questo corso d'acqua Ha posto le condizioni favorevoli per l'insediamento umano E numerose sono le testimonianze La presenza di questo corso d'acqua 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 La presenza di questo corso d'acqua